Nella seconda guerra mondiale, l'importanza di tutti gli aerei crebbe enormemente, dai caccia ai grandi bombardieri. Dal cielo arrivavano sul campo di battaglia uomini e rifornimenti. Anche i civili divennero obiettivi bellici. Le battaglie di terra o di mare erano ormai condizionate da quanto avveniva in cielo. Tutto era cominciato molti anni prima, all'inizio della prima guerra mondiale. I primi aerei da guerra, progettati a partire dall'osservazione degli uccelli e costruiti con legno, cavi metallici e tela, raggiungevano alte velocità, erano in grado di accelerare e rallentare e potevano resistere a venti anche molto forti. Nel 1918, alla fine della guerra, erano in servizio aerei capaci di percorrere più di 160 km l'ora. Era nata una nuova arma, l'aviazione. Nel 1944, gli avioggetti, completamente metallici, volavano a più di 800 km l'ora, velocità sufficiente a intercettare i primi missili balistici, le bombe volanti tedesche V1. Un anno dopo, un aereo spazzò via un'intera città con una sola bomba atomica. L'era nucleare era arrivata dal cielo. Gli aerei, per la maggior parte, hanno vita breve. Vengono distrutti in combattimento oppure, una volta dichiarati obsoleti, vengono rottamati. Ma alcuni sopravvivono per raccontare la storia dell'influenza dell'aviazione su tutto il XX secolo. Nell'aeroporto di Duxford, un centinaio di chilometri a nord di Londra, il Museo Imperiale della Guerra ha raccolto una delle più belle collezioni di aerei da combattimento del mondo. Qui, gli aerei che hanno fatto la storia vengono restaurati e ricostruiti come erano in origine durante la guerra. Ma si tratta di un museo diverso dagli altri. Duxford è anche un aeroporto funzionante. Qui, la storia prende vita. Non sempre qui è tutto bello e splendente. Soprattutto gli aeroplani, che sono come quando erano in servizio. Sporchi, infangati, unti e con persone che ci lavorano dentro e fuori. Ecco che cosa possono vedere qui i visitatori. E si sentono anche i rumori per la presenza di un aeroporto funzionante. E a parte gli attualissimi aerei da turismo, tuttora è possibile sentire il rombo di un Merlin o di un Mustang o di uno Spitfire. Insomma, che piaccia o no, è innegabile che il genere umano possieda una certa violenza innata. Dobbiamo esserne consapevoli, conoscere il pericolo che la nostra violenza può rappresentare per noi. Io credo che visitando questo museo la gente possa imparare molte cose sulla guerra. Detto questo, non si può negare che le macchine da guerra siano affascinanti. Il pensiero, il progetto e la mano d'opera che hanno creato molte di queste macchine sono interessanti, soprattutto se le si considera come creazioni dell'ingegno umano più che come strumenti di guerra. L'aeroporto di Duxford fu inaugurato nel 1918, quando gli aeroplani erano una novità e il pensiero militare e strategico era fondato saldamente nella tradizione terrestre. A Duxford vi sono ancora gli hangar originali, ma esistono pochi fragili aerei della Prima Guerra Mondiale. Questo è uno dei due sopravvissuti dei 4.000 ricognitori RE8 prodotti allora. L'abitacolo aperto non offriva protezione dagli attacchi del nemico né dagli agenti atmosferici. Il modello era ispirato all'aquilone senza coda, con il miglior lino irlandese teso intorno a una struttura in legno di abete e fissato con cavi d'acciaio. Tra le due guerre volare divenne anche uno sport. Quando la Royal Air Force non era impegnata in guerra, i piloti degli aerei da combattimento, disoccupati, compravano aerei leggeri come il Tiger Moth o si davano agli affari trasportando passeggeri in macchine più grandi come il Dragon Rapid. Era l'epoca del biplano. Negli anni 30 si usavano ancora legno e tela per la maggior parte delle costruzioni aeree. La fabbricazione di aerei da guerra subì una battuta d'arresto. Si volava soprattutto per divertimento. Ma c'era chi aveva altro in mente. Subito dopo essere stato eletto cancelliere, Adolf Hitler si dedicò al riarmo della Germania. L'aviazione, la Luftwaffe, doveva essere l'arma chiave nella Blitzkrieg. Una guerra lampo basata sulla velocità e la sorpresa. I biplani vennero presto rimpiazzati da moderni monoplani metallici come il bombardiere Junkers 87 Stuka e il caccia Messerschmitt 109. Gli inglesi dovettero rendersi conto che sarebbe scoppiata una nuova guerra il cui esito avrebbe potuto decidersi nell'aria. I notiziari filmati del governo cercavano di preparare il popolo britannico. In questo paese nessuno vuole la guerra ma se dovrà esserci una guerra noi non chiederemo né concederemo tregua finché l'aggressore non sarà abbattuto. C'è qualcosa che potete e dovete fare. Se già disponete di uno shelter e non lo avete ancora montato fatelo subito. Il preavviso potrebbe essere breve. Preparatevi adesso. Il bombardiere era la minaccia più grave. Gli shelter, i rifugi in lamiera furono consegnati ai proprietari di case che avevano un giardino. Tutti gli altri avrebbero dovuto cercare riparo nei rifugi pubblici. Non vi allarmate. Mantenete la calma. La Gran Bretagna è una nazione preparata. Il tono era rassicurante ma i fatti non lo erano per nulla. Quando cominciò la guerra il destino della Gran Bretagna dipendeva da quattro dispositivi di difesa fondamentali. Una rete di stazioni radar capace di avvertire con anticipo gli eventuali attacchi aerei. Il motore aeronautico Rolls-Royce Merlin e i due aerei da combattimento che alimentava l'Oaker Hurricane e il Super Marine Spitfire. Queste armi insieme avrebbero cambiato il corso della storia. Nella battaglia d'Inghilterra l'elegante Spitfire colpì la fantasia della gente. Ma fu l'Hurricane a giocare il ruolo da protagonista. Era il primo caccia monoplano della RAF entrato in servizio nel dicembre del 1937. L'Hurricane era solidamente costruito e pesantemente armato con quattro mitragliatori su ogni ala. Ne sono sopravvissuti pochissimi degli oltre 14.000 costruiti. Questo è stato rimesso in condizioni di volo da una squadra di volontari. Sono occorsi 15 anni di duro lavoro. Il progetto dell'Hurricane compie il passo decisivo dal vecchio al nuovo. La fusoliera ha una tradizionale copertura di tela su una struttura di legno e metallo ma l'ala è una struttura a scatolare completamente metallica che affida a una copertura molto tesa la maggior parte della sua resistenza. Oggi Larry Candy Duxford fa il suo primo volo in pubblico. La progettazione di questo aereo era già piuttosto antiquata e molto semplice. Se lo si vuole paragonare ad un aereo più moderno sono evidenti le enormi differenze. Era soltanto l'evoluzione di un aereo precedente. All'interno si può vedere come i cavi di sostegno della fusoliera siano stati costruiti con cavi recuperati da vecchi biplani. La differenza tra questo aereo e lo Spitfire consiste nella struttura del rivestimento in tensione assolutamente fenomenale fatta di una grande quantità di pezzi assemblati. L'Hurrican era la spina dorsale dell'aviazione in quel periodo. Sidney Kam lo aveva progettato come un vecchio biplano senza l'ala superiore. Era un aeroplano ricoperto di tela più lento del Messerschmitt ma aveva buone capacità di carico era maneggevole e atterrava in poco spazio. Ricordiamoci che allora non c'erano piste d'atterraggio. Se si faceva un buco dell'Hurrican lo si poteva rattoppare e rimandare in aria. L'Hurrican era rapido e facile da costruire in un periodo in cui i tempi di produzione erano vitali. Ci voleva molto più tempo per costruire uno Spitfire interamente metallico ma l'Hurrican non raggiunse mai la popolarità dello Spitfire nonostante abbia avuto un ruolo essenziale durante tutta la guerra abbatté molti più apparecchi i nemici di tutte le altre forze di difesa messe insieme. Fu surclassato dal caccia Messerschmitt 109 ma si dimostrò letale per i lenti bombardieri tedeschi la sua capacità di sopportare i colpi ricevuti in battaglia era straordinaria. Un asso dell'aviazione tedesca si lamentò del fatto che sebbene avesse esaurito le munizioni del suo caccia l'Hurrican incolpito continuasse a volare. Douglas Bader comandante della squadriglia di Harrique in 242 con base a Duxford divenne il più famoso di tutti gli assi britannici. Bader aveva perso entrambe le gambe in un incidente aereo prebellico. La sua determinazione nel tornare a volare nonostante gli arti artificiali e le sue capacità di combattente furono di esempio per i giovani piloti da caccia della RAF e per i cittadini britannici. Nei giorni più bui della guerra quando le truppe britanniche si ritirarono dalla Francia e l'invasione tedesca sembrava imminente il pilota da caccia divenne il simbolo della resistenza britannica. Dalla sala di controllo di Duxford i piloti di Bader venivano inviati a intercettare le formazioni tedesche. È la stessa sala di controllo allestita per la battaglia d'Inghilterra e utilizzata per controllare i caccia che facevano base a Duxford e nelle immediate vicinanze e nei momenti più drammatici della battaglia. Qui sala operativa qui sala operativa l'arme aerea tutto il personale non impegnato in mansione operativa si metta al riparo al riparo. Per una accurata ricostruzione ci siamo avvalsi di molte foto scattate qui dai reporter subito dopo la battaglia. Molti oggetti sempre dell'epoca provengono da altri luoghi come attrezzature e telefoni ma molti sono stati recuperati e accuratamente restaurati. nel 1938 Duxford fu la prima base RAF ad avere in dotazione il rivoluzionario nuovo Spitfire. Erano in grado di contrastare i caccia tedeschi da pari a pari ma in realtà erano molto più numerosi. I caccia britannici operavano in squadriglie di 12 aerei Douglas Bader vide che un gruppo di squadriglie cioè uno stormo avrebbe potuto condurre attacchi ben più efficaci contro le ondate dei bombardieri tedeschi. Sotto il suo comando il grosso stormo di Duxford un'unità di 60 tra Spitfire e Hurricane divisa in 5 squadriglie combatte con successo gli incursori tedeschi infliggendo loro pesanti perdite. Al culmine della battaglia il 15 settembre del 1940 dichiaravano di aver abbattuto 42 aerei nemici. La RAF rimase imbattuta e i tedeschi furono costretti a ripensarci. L'invasione dell'Inghilterra veniva rinviata sine die. Le forze aeree avevano salvato la nazione. Ormai nessuno dubitava più del loro valore. E così quel giorno ottenemmo una vittoria. Una vittoria che apriva la strada a tutte le altre avvenire. La vittoria del 15 settembre ci procurò soprattutto del tempo. Tempo per costruire, per riorganizzare, per finire il nostro lavoro. Durante la battaglia d'Inghilterra anche chi non sapeva nulla dell'aviazione si rese conto che la nazione doveva la propria sopravvivenza a quegli apparecchi. Winston Churchill disse a proposito dei piloti da caccia mai nelle guerre tanti hanno contratto un tale debito nei confronti di così pochi. Divennero eroi nazionali. Non c'era ragazzo in Inghilterra che non sognasse di arruolarsi nella RAF. Duxford celebra i 60 anni dalla nascita dello Spitfire con 21 esemplari messi in mostra accanto a due hurricane. La più grande riunione di velivoli dopo la guerra. Gli odierni proprietari degli Spitfire sentono un forte legame con i piloti dei caccia del tempo di guerra condividono le sensazioni e forse i pericoli del portare in volo quelle leggende della guerra aerea. Avrete visto dei film di aeroporti militari brulicanti di meccanici e piloti che lavorano alacremente attorno agli aerei. Ma non potrete mai entrare nella mente di quegli uomini mentre volano né osservare le loro sensazioni al momento di combattere in volo. Quando il tuo aereo viene colpito il motore comincia a scoppiattare e senti odori di carburante. Sono convinto che solo chi ha nervi saldi e maggiore esperienza tattica riesce a vincere. È proprio una lotta tra gladiatori all'ultimo sangue. Io devo ancora incontrare un pilota da caccia di qualunque nazionalità che non sia in qualche modo soddisfatto di sé. E' un'esperienza totalmente diversa dal guidare aerei più moderni. Siedi su un pezzo di storia. L'odore è diverso, sei vestito in modo diverso. Non c'è niente da fare. Decisamente lo Spitfire è qualcosa di speciale. Ha qualità e difetti che gli aerei moderni non hanno. E' potente, leggero ai comandi e le assicuro che quando sono lassù niente mi dice che sto vivendo al giorno d'oggi. E' una macchina del tempo. Una vera e propria macchina del tempo. Pronti al decollo. Manetta tutta avanti. Cloche al centro. In guerra l'importante era creare delle piattaforme di lancio il più esterne possibile. Poco importava la sicurezza e infatti molti giovani piloti morivano in drammatici incidenti sia in fase di decollo sia di atterraggio. Gli aerei erano fatti per uccidere per questo erano pericolosissimi. Erano il massimo della tecnologia. Si stacca delicatamente dal suolo con la normale spinta propulsiva. e ora ritrae il carrello. Il capo squadriglia si guarda intorno per vedere se i suoi uomini sono intorno a lui. Uno è rimasto leggermente indietro e lui lo richiama con fermezza per radio. Poi salgono a quota di pattugliamento. C'è molto rumore dentro l'abitacolo. Tutto balla e vibra a potenza elevata e ad alto numero di giri. Quando supera i 2800 giri al minuto l'aereo comincia a rabbrividire e ti parla. Il fumo dello scarico diventa più intenso e il rumore cambia tono. Lo Spitfire è unico in quel senso dà sensazioni molto forti cosa che non ti capita su un Mustang o su un Hellcat. Praticamente sei seduto appena dietro il motore e sotto il serbatoio di carburante. Ce l'hai veramente in braccio. È molto eccitante. Più conosci lo Spitfire e più lo ami con tutti i suoi difetti e la sua complessità. Proprio come un amico che ha un lato del carattere che è un po' ostico ma che tu accetti perché fa parte della sua personalità e ti piace e a volte ti manca. Se non voli con lo Spitfire da qualche anno o da qualche mese quando ci sali sopra ti senti a casa. il grande rivale dello Spitfire era il Messerschmitt 109. Ne furono costruiti quasi il doppio più di 33.000 eppure ne rimangono molti di meno. questo fu catturato dagli inglesi in Nord Africa nel 1942. Era in ottime condizioni. È di proprietà della RAF ma viene conservato a Duxford dove è stato messo in grado di volare ancora. È un apparecchio complicato e richiede un'infinità di controlli per poter volare. Non va solo in giro a terra. Deve volare deve essere affidabile e tutto deve funzionare alla perfezione perché la vita di chi lo piloterà dipende proprio da questo. Il paracadute è nell'abitacolo ma è improbabile che il pilota riesca ad usarlo. Sappiamo poco degli aerei tedeschi. Avevamo poco e abbiamo lavorato molto per conservare l'aereo nel modo più originale e autentico possibile. Coloro che vengono a visitarlo quando entrano nell'abitacolo si commuovono proprio per la sua autenticità. Stanno invecchiando e diventano più emotivi e noi siamo contenti di far vedere loro che ci interessiamo alla storia a cui hanno partecipato. la guerra ha un sapore amaro per molta gente in questo paese. Alcune persone si sono lamentate del fatto che questo aereo venga curato così amorevolmente ma è un velivolo rarissimo e ci sono molti altri aerei alleati del tempo di guerra che vengono curati altrettanto amorevolmente. Noi siamo interessati a tutti capisce? Questo è un pezzo di storia e funziona ancora. la battaglia d'Inghilterra tra i piloti da caccia della RAF e della Luftwaffe finì alla pari. Gli aerei avevano subito ingenti danni e da entrambe le parti si era imparato a trattare i nemici con rispetto. ma stava per entrare in campo una nuova squadra di pesi massimi l'aviazione americana. Nel dicembre del 1941 gli americani si allearono con gli inglesi nella guerra contro la Germania. Nel maggio del 1943 re Giorgio VI e la regina Elisabetta visitarono all'aeroporto di Duxford il 78esimo stormo combattente dell'aviazione americana. Venne mostrato loro il nuovo caccia americano che avrebbe fatto base a Duxford per proteggere i bombardieri americani. Il nuovo caccia americano il P-47 Thunderbolt. Un'elica a quattropale assorbe l'impressionante potenza del suo motore. Nelle sue ali sono custodite migliaia di cartucce per mitragliatrici. Coerentemente al nome contengono fulmini di potenza di fuoco. Una potenza di fuoco sufficiente a fornire al 78esimo stormo combattente la terribile reputazione di unità invincibile presso la Luftwaffe. I loro abbattimenti venivano ripresi da telecamere montate accanto alle mitragliatrici. A Duxford gli americani sono ancora presenti. Il museo ospita oggi la più grande collezione di aerei da guerra americani al di fuori degli Stati Uniti. Questo Thunderbolt è stato restaurato per rappresentare un aereo del 78esimo stormo e porta a dipinto sulla fusoliera il caratteristico stemma a scacchi bianchi e neri. La loro manutenzione per il volo è seguita dalla collezione caccia uno dei gruppi indipendenti che fanno base a Duxford. Quest'altro invece non volerà più comprato dal museo dopo che aveva subito un incidente in fase di atterraggio è arrivato qui con molte parti danneggiate o mancanti. Lo stanno ricostruendo per riportarlo alle sue condizioni ottimali. È il restauro più complesso mai tentato a Duxford. Allora ogni pezzo veniva realizzato dalle mani dell'uomo non dalle macchine. Oggi invece ogni singolo pezzo è costruito da macchine impostate dal computer. in effetti oggi la cosa più importante è programmare il computer poi basta collegarsi a una macchina che risponda al computer si preme un pulsante ed è fatta. A Duxford sono conservati i microfilm dei disegni completi del progetto di questo aereo. Vede grazie a questi possiamo riprodurre le parti mancanti possiamo usarli come modelli per costruirle possiamo riprodurre i pezzi e rimontare l'aereo perché fortunatamente disponiamo dei disegni. Molto spesso cominciamo da un mucchio di rottami sono seriamente corrosi cadono in pezzi noi prendiamo questi pezzi li svitiamo li smontiamo e accuratamente cataloghiamo tutto documentare è importante documentare tutto quello che si fa fotografando facendo schizzi prendendo appunti perché lì per lì si pensa di poter ricordare dove fossero collocati i pezzi ma non è così questi pezzi sono completamente inservibili ma ce ne sono anche di meno danneggiati come questo ad esempio che possono essere smontati ridotti ai loro componenti e riutilizzati questo pannello servirà a costruirne uno nuovo vede questo è un pannello che abbiamo ricostruito con alcuni pezzi di uno danneggiato molte di queste parti quando montiamo il rivestimento non si vedono più ma la filosofia di questo museo è di ripristinare l'aereo il più fedelmente possibile a com'era in origine in questo caso al 1945 e noi lo facciamo per quanto ci è concesso umanamente di fare cercando di rispettare anche il minimo dettaglio guardi qui abbiamo il freno aerodinamico per la picchiata vede questa è la leva che lo aziona i cavi sono tutti collegati una volta montato il rivestimento nessuno potrà più vederli questo è uno dei pannelli dell'ala del Thunderbolt adesso le mostro come si adatta perfettamente all'aereo ecco più o meno va qui si usano dei chiodi per fissare provvisoriamente i pannelli al loro posto poi si avvitano le fasce di collegamento dall'interno e il rivestimento aderirà perfettamente alla struttura sempre che lo si imbulloni nella giusta posizione l'alluminio non è poi così forte come materiale ma incorporato in una struttura come questa la rende infinitamente più solida montato il rivestimento sulla struttura quest'ultima diventa molto più resistente basti pensare che queste due ali sostengono un aereo da circa 10 tonnellate è molto ben progettato ce n'erano moltissimi di questi aerei credo più di 6.000 o di più ma oggi ne sono rimasti molto pochi il pilota collaudatore sale nell'abitacolo indossa la maschera d'ossigeno ed è pronto a volare sembra che le ruote comincino a rientrare prima ancora che l'aereo si stacchi da terra era una catena di montaggio che ne produceva decine pensando che al massimo in un mese si sarebbero ridotti a un mucchio di rottami schiantati in qualche regione della Germania 50 anni dopo noi lavoriamo perché l'aereo duri ben più di un mese o due tempo fa venne qui un americano si presentò e disse di aver volato sul Thunderbolt gli dissi davvero interessante da che base da questa disse lui sono stato un'infinità di volte in questo hangar con i miei meccanici sono passati 50 anni e lui era letteralmente stupefatto nel vedere quello che facciamo qui guardò l'aereo da vicino naturalmente lo conosceva molto bene dentro e fuori e disse oh sì era proprio così ed è stato fantastico 50 anni fa lui metteva in gioco ogni giorno la sua vita volando su quest'aereo il compito dei caccia era di proteggere i bombardieri americani durante le loro quotidiane missioni in territorio nemico ma il raggio d'azione dei Thunderbolt era limitato dall'elevato consumo di carburante nel dicembre del 1944 il P-51 Mustang sostituì il Thunderbolt a Daxford il Mustang era uno dei migliori caccia che fossero mai stati progettati più veloce più leggero e con un consumo pari alla metà di quello del Thunderbolt era in grado di sopraffare i caccia tedeschi e di proteggere i bombardieri nel loro percorso verso gli obiettivi in territorio tedesco la campagna di bombardamenti 24 ore su 24 contro la Germania divenne la battaglia aerea più difficile e costosa mai combattuta gli americani volavano di giorno e gli inglesi di notte la loro arma principale era il bombardiere pesante Evro Lancaster questo è il Lancaster di Daxford uno degli 11 sopravvissuti degli oltre 7000 che furono costruiti era arrivato al museo a pezzi ora è di nuovo in condizioni operative durante la guerra questi bombardieri a lungo raggio colpivano le città tedesche con bombe dirompenti o lasciavano cadere una pioggia di spezzoni incendiari con effetti terrificanti la battaglia di Hamburgo si combatté tra il 24 luglio e il 3 agosto i bombardieri inglesi riuscirono a sganciare le loro bombe notte dopo notte con un margine di errore inferiore ai 300 metri questo fu possibile grazie a un segnale radio inviato dall'Inghilterra nel 1943 i Lancaster che bombardarono Hamburgo facevano parte dello stormo che distrusse inesorabilmente metà della città e uccise più di 40.000 persone i Lancaster non facevano mai le cose a metà nelle loro gigantesche estive potevano caricare fino a 10 tonnellate di bombe i Lancaster sganciarono un totale di oltre 600.000 tonnellate di bombe ma il prezzo fu alto 3.345 bombardieri furono abbattuti in corso di missione la risposta americana a Lancaster fu il B-24 Liberator ne furono costruiti più di 18.000 ma andarono quasi tutti distrutti nel 1944 ogni giorno le catene di montaggio producevano 30 Liberators completi alla fine della guerra si potevano comprare per poche centinaia di dollari oggi praticamente non hanno prezzo Duxford è riuscito a trovare soltanto una sezione anteriore molto danneggiata e il restauro costerà anni di estenuante lavoro quello che cerchiamo di fare è di riportarlo il più possibile a com'era in origine non vogliamo sostituire nulla a meno che questo non si renda assolutamente necessario non possiamo farlo volare di nuovo quindi non importa se non lo ricostruiamo al 100% da quando ha smesso di volare è stato sottoposto a ogni sorta di modifica queste sezioni sono state tagliate e rese apribili con delle cerniere abbiamo aggiunto dei pezzi ma irrilevanti al fine storico come le ho detto il nostro compito sarà quello di riportare l'aeroplano che vede a quello che era prima dell'incidente ora per quanto riguarda l'interno è da ritenersi senz'altro più importante della struttura stessa il motivo per cui vogliamo esporlo nel museo è che vogliamo usarlo per spiegare come funzionava il Liberator aveva dei compiti ben precisi ed è importante che l'interno sia attrezzato esattamente come durante il suo servizio operativo quindi una delle nostre maggiori difficoltà è quella di ritrovare tutto quello che effettivamente conteneva ecco da qui si può vedere la posizione del pilota dovremo fare un'enorme quantità di ricerche e ci vorranno parecchi anni per poterlo mettere in mostra in modo accettabile l'altro bombardiere pesante americano era il B-17 la fortezza volante come lo Spitfire colpiva l'immaginazione del pubblico e occupava le prime pagine dei giornali la sua reputazione crebbe ulteriormente con il film drammatico The Memphis Belle questi sono dei passeggeri con biglietto di sola andata e questo è l'equipaggio della Memphis Belle del 324esimo gruppo della novantesima unità di bombardamento pesante solo un equipaggio di un aereo di un intero gruppo che a sua volta appartiene a una delle 15 unità dell'aviazione americana la fortezza volante continuò ad essere utilizzata anche in tempo di pace ma contrariamente al Liberator ne sono sopravvissute molte alla guerra ci sono voluti anni per restaurare quest'esemplare utilizzato per missioni umanitarie in Africa e riportarlo alle sue originarie condizioni operative è un'emozione trovarsi davanti a un B-17 una fortezza volante riporta alla mente tantissimi ricordi quanto erano grandi e moderni i B-17 e i B-24 che fecero tutti i bombardamenti diurni in Europa poi la RAF si incaricò delle missioni notturni e con questi aerei giganteschi riuscimmo a ridurre in ginocchio la Germania e la guerra finì questo aeroplano è meraviglioso le bocche da fuoco anteriori giustificano l'appellativo di fortezze volanti infatti potevano sparare in ogni direzione ma la cosa che faceva grande questo aereo erano i turbocompressori erano in grado di pompare ossigeno extra al motore il che gli consentiva di sorvolare abbondantemente i proiettili della contraerea tedesca che tuttavia riuscì ad abbatterne molti ecco la contraerea quelli sembrano innocui sbuffi di fumo ma dietro ogni sbuffo c'è uno shrapnel che esplode spargendo in cielo schegge e frammenti alla distanza giusta grazie a precise indicazioni via radio questo aereo probabilmente è il più bel esemplare di B-17 oggi esistente è stato restaurato fino al minimo dettaglio con le radio e tutti gli strumenti di navigazione tutto è come durante la seconda guerra mondiale sono rimaste poche fortezze volanti B-17 al mondo che qui si siano interessati al loro restauro al rimetterle a posto come erano è quasi incredibile io che conosco buona parte di questi pezzi anzi direi tutti ero sicuro che non sarebbero riusciti a trovarli e che avrebbero dovuto procurarsi le macchine per produrli e invece incredibilmente ce l'hanno fatta le fortezze volanti come la maggior parte degli aerei da guerra erano sacrificabili erano costruite per un unico scopo sganciare bombe distruggere uccidere non bisogna dimenticarlo quindi nel costruire questi aerei non si prestava molta attenzione agli uomini che avrebbero dovuto pilotarli alle loro comodità oggi tendiamo a dimenticare che volare a quei tempi era pericoloso di per sé moltissimi giovani morivano in incidenti di volo andare in guerra era soltanto un rischio in più pensate alla scomodità degli equipaggi qui dentro si indossava una tuta da volo elettrificata una pesante giacca in vello di pecora si doveva respirare ossigeno per 4 5 o anche 6 ore un grande disagio bisognava indossare i guanti perché il pericolo di assideramento era reale se ci si toglieva un guanto si andava incontro a problemi seri a 10.000 metri faceva molto freddo anche 50 gradi sotto zero oltre al fatto che si era in guerra si metteva la propria vita in gioco questi uomini avevano un coraggio incredibile ed erano giovani l'età media era di 21 anni dei ragazzi diremmo oggi avevamo una paura da morire chi diceva di non averne mentiva la contraerea ha smesso vuol dire che lassù da qualche parte c'è un caccia nascosto dietro una nuvola o in alto davanti al sole dove il riflesso ti abbaglia e non puoi vederlo e che aspetta di scenderti addosso in picchiata un caccia a ore 6 ecco cosa vede il mitragliere un punto nel cielo e poi una scintilla e vuol dire che ti sta sparando 2300 proiettili al minuto mi creda è uno shock tremendo essere colpiti vedete io non mi aspettavo che succedesse perché non avevo visto l'aereo che mi stava dietro e all'improvviso mi ritrovai con due motori in fiamme stavano andando a fuoco e noi perdevamo il controllo chiamai il pilota e gli urlai e adesso e lui gridò buttati buttati fuori era molto agitato la voce era alterata lui era sempre rimasto calmo e padrone di sé nei combattimenti precedenti devo dire che mi impressionò molto che si agitasse e urlasse buttati fuori in quel modo comunque mi tolsi immediatamente le cuffie e le appesi ai comandi che erano proprio lì davanti a me quando le appesi balzarono immediatamente verso l'alto e rimasero in aria per un paio di secondi a quel punto pensai che se volevo venirne fuori dovevo abbandonare l'aereo molto in fretta forza ragazzi abbandonate l'aereo eccone uno si è lanciato dal deposito bombe si lo vedo c'è un mitragliere in coda attento Bill tienilo sotto controllo vedi dei paracadute si due paracadute a ore nove una volta ho fatto un sogno è stato circa dieci anni fa mi trovavo in un posto come questo all'età che ho adesso e mi facevano entrare dentro uno di questi proprio un B-17 e io in questo sogno ero convinto di non essere più in grado di ricordarmi ogni singola leva come funzionava il nome degli oggetti a bordo capirai io non capisco niente di meccanica sono un musicista oggi davvero mi sembra incredibile eppure quel sogno l'ho fatto e in realtà sono convinto di non capire niente di meccanica e invece eccomi qui e mi ricordo tutti questi aggeggi o congegni oggi quel sogno si è avverato per me è un fatto straordinario le ruote di un Memphis Belle toccano il suolo d'Inghilterra per la venticinquesima volta con 25 missioni di combattimento alle spalle questi equipaggi possono festeggiare ora possono tornare a casa era normale vedere volare le fortezze volanti nei cieli dell'Inghilterra meridionale oggi a Duxford è conservata l'unica fortezza volante ancora in grado di volare che esiste in Inghilterra la Sally B viene fatta funzionare dai restauratori di B-17 quando è arrivata era appena stata adattata per usi civili era completamente vuota e quindi abbiamo pensato di farne di nuovo un bombardiere bisogna essere bravi sapere usare gli attrezzi ed essere in grado di risolvere tutti i problemi bisogna prendere in mano i manuali e chiedersi da dove cominciamo siamo andati dove c'erano una volta i campi di atterraggio e abbiamo scavato e la maggior parte delle armi che abbiamo rimontato sull'aereo sono state trovate dove le avevano lasciate gli americani le abbiamo restaurate pulite e rimesse a loro posto per tenere in aria questo bombardiere di 50 anni l'equipaggio di terra ha imparato a improvvisare ma la sicurezza viene prima di tutto ok prova a chiudere ok è a posto abbiamo tutti lo stesso tipo di problema anche tutte le altre organizzazioni che si occupano di vecchi aerei hanno problemi simili ma ce la caviamo e ci aiutiamo a vicenda non ci sono pause lassù in cielo non puoi dire abbiamo un problema qui fermiamoci a dare un'occhiata quando sei lassù sei lassù devi essere tranquillo e sicuro di atterrare sano non è salvo è salvo altri invece li guardano con una sorta di irreverenza questo dipende da quanto sanno sulle circostanze in cui venivano usati quando vengo qui e vedo un b17 mi emoziono perché mi riporta alla mia giovinezza e mi ricorda scene che vide allora centinaia di questi aerei in battaglia che decollano e alcuni che precipitano o motivi particolari per commuovermi alla vista di questi aerei ma credo che rimangano il simbolo di quei giorni durante la seconda guerra mondiale un cinegiornale della bbc parlò di circa mille fortezze tra liberators o lancaster che bombardavano ogni giorno la germania non parlavano mai di quei 20 mila giovani che facevano volare quelle macchine da guerra l'aeroplano divenne il simbolo delle forze di aviazione compresi i giovani dell'arma con la fine della guerra in europa nel maggio 1945 gli aviatori americani tornarono a casa d'Axford fu restituito alla RAF divenne un museo nel 1977 ora è in costruzione un nuovo edificio che dovrà ospitare la collezione americana del museo imperiale della guerra sarà il museo americano dell'aviazione con 17 milioni di dollari durante la seconda guerra mondiale mezzo milione di aviatori americani passarono per l'inghilterra orientale d'Axford era una delle cento basi da qui decollavano i caccia p 47 e p 51 scortavano i bombardieri durante le offensive strategiche contro la luft waffe giocarono un ruolo chiave per la vittoria degli alleati nella seconda guerra mondiale questo edificio racconterà quella storia ma racconterà anche la storia del dopoguerra il pezzo più grosso della collezione sarà questo enorme bombardiere b 52 che prestò servizio nella guerra del vietnam con un equipaggio di quattro persone portava il carico di bombe di 10 fortezze volanti e necessitava di 100 specialisti circa 30 mila degli americani che prestavano servizio nelle basi inglesi persero la vita nel corso della seconda guerra mondiale il museo aeronautico americano sarà dedicato alla loro memoria agli uomini dell'aviazione inglese che stanno ora volando sulla germania distruggendo obiettivi a circa 2000 chilometri dalle loro basi e che non hanno mai voltato le spalle al nemico e che non hanno mai avuto i nostri spursi e che non hanno mai avuto i nostri spessi Grazie a tutti.